Nell'istituto sono presenti i seguenti indirizzi. Conseguendo il Diploma Liceale Artistico, avrai sviluppato e approfondito conoscenze e abilità e maturato le competenze necessarie per dare espressione alla tua creatività e capacità progettuale. Conoscerai codici dei linguaggi progettuali e grafici, conoscerai e applicherai tecniche grafico-pittoriche e informatiche, saprai individuare procedure nel rapporto progetto-prodotto-contesto, saprai identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica, saprai applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva. Conseguendo il Diploma Liceale Artistico ad indirizzo audiovisivo e multimediale, avrai approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali, negli aspetti espressivi e comunicativi, e avrai consapevolezza dei loro fondamenti storici e concettuali. Conoscerai le principali linee di sviluppo tecniche concettuali delle opere audiovisive contemporanee e le intersezioni con altre forme di espressione e comunicazione artistica. Saprai applicare le tecniche adeguate nei processi operativi? Avrai acquisito capacità procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari. Conoscerai e saprai applicare i principi della percezione visiva e della composizione dell'immagine. Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo servizi commerciali ha competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore, sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell'attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell'immagine aziendale, attraverso l'utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Inoltre, si orienta nell'ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. Conseguendo il Diploma professionale nei servizi per la sanità e l'assistenza, possiederai le competenze necessarie per organizzare e attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e di comunità. Conseguendo il Diploma professionale in servizi per la sanità e l'assistenza, possiederai le competenze necessarie per organizzare e attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e di comunità. Saprai utilizzare metodologie e strumenti operativi per rilevare bisogni socio-sanitari. Saprai collaborare nella gestione di progetti e di attività dell'impresa sociale. Contribuirai a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della sicurezza. Realizzerai azioni a sostegno e a tutela della persona con disabilità. Il Diplomato professionale in manutenzione e assistenza tecnica saprà applicare le procedure che sono alla base dei processi produttivi. Saprà intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti e dei processi utilizzati. Avrà un'ampia conoscenza pratica di tutte le lavorazioni industriali alle macchine utensili. Tornio parallelo, fresa, trapano, tornio a controllo numerico e nell'utilizzo di software specifici. AutoCAD, simulatori pneumatici, simulatori a controllo numerico. Inoltre, saprà selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico le produzioni tradizionali del territorio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS